Cronaca di una morte annunciata avete scritto nel comunicato stampa parlando anche di una gravità inaudita. Sì, assolutamente. Quanto occorso ieri è di una gravità inaudita, esattamente, perché è l'apice di tutta una serie di eventi, di episodi che hanno interessato la nostra città, penso anche a Ponte Sasso, oltre a quello che è accaduto appunto ieri e non solo, che denotano assolutamente un'incapacità nella gestione della sicurezza, della viabilità e che per l'effetto della quale abbiamo chiesto infatti le dimissioni dell'assessore. Non si può assolutamente soprassedere sulla sicurezza che, peraltro, molto spesso è stata denunciata da parte della maggior parte dei cittadini che segnalavano e segnalano tuttora importanti pericoli che si riferiscono a parecchie zone della nostra città. Per quanto riguarda Rosciano, Tarsi, tanti cittadini, ma anche voi di Fratelli d'Italia, avete chiesto una rotatoria? Guardi, siamo oggi addolorati, siamo prostrati, siamo delusi da questa amministrazione, perché nel corso di questi anni abbiamo cercato in tutti i modi, dai banchi del Consiglio Comunale, ma soprattutto dalle relazioni personali, di cercare di stimolare l'assessore a prendere consapevolezza della criticità. Ci sono cittadini di Rosciano che in questi anni si sono dati da fare, mese dopo mese, l'hanno chiamata, l'hanno sollecitata. Le risposte sono sempre state vaghe, faremo, vedremo, abbiamo intenzione di, il progetto è quasi pronto. Allora, io dico che se è vero che i cittadini in qualche modo devono rispettare le regole, è chiaro, ma ai cittadini bisogna dare la possibilità di rispettarle queste regole, dobbiamo metterli nella condizione di rispettare le regole. E questa morte, questa cosa dolorosissima, poteva essere evitata e non è stata evitata, perché c'è qualcuno che continua in maniera estremamente superficiale a non ascoltare i cittadini. Chi vive in quel quartiere sa bene quali sono le criticità. Ci sono lì, ci sono in altri punti del quartiere, ci sono per esempio su Via Flaminia, e si continua a far passare i giorni, nella speranza che le cose non succedano. Poi quando accadono si cerca di chiedere scusa, ma mi dispiace, è troppo tardi.